30 nuovi casi non sono pochi, aveva detto il governatore Enrico Rossi, qualche giorno fa parlando in Consiglio regionale di un ancora ipotetico calendario delle riaperture. Non lascerà tranquillo allora il presidente della regione il dato dell'ultimo bollettino sull'epidemia, che è la vigilia della ripresa praticamente di tutte le attività. Segna 35 nuovi positivi individuati. 13 di questi sono conferme di positività emerse attraverso la campagna di test sierologici intrapresa dalla fine di aprile. Più della metà dei nuovi casi arriva ancora una volta da Firenze e anche Lucca fa segnare la doppia cifra, mentre il resto del territorio va da zero casi ai due della provincia di Arezzo. Crescono a un ritmo maggiore invece i guariti, che toccano quota 6.162, con un aumento significativo delle guarigioni virali, i cosiddetti negativizzati. Complessivamente restano 2.521 le persone positive in isolamento a casa, poiché ha sintomatiche o con sintomi lievi, mentre sono 9.095 gli isolati in sorveglianza attiva per aver avuto contatti con persone contagiate. Si riducono ancora i ricoverati nei posti letto dedicati ai pazienti Covid, sebbene rispetto all'ultimo bollettino ci sia un ricovero in più nei posti di terapia intensiva. Si registrano infine 5 nuovi decessi, 2 uomini e 3 donne, con un'età media di 67,2 anni.